Sono anni che l'ospedale Mazzini aspetta la sua PET, acquistata dall'asla di Teramo, finalmente è arrivata. Si tratta di un apparecchio digitale di ultimissima generazione presentato a dicembre scorso durante un congresso internazionale di radiologia a Chicago. In Italia l'asla di Teramo è la prima a dotarsi di un simile macchinario, seguirà l'ospedale Careggi di Firenze. La PET è uno strumento importante soprattutto per lo studio dei tumori, ma può anche essere utilizzato per studi di cardiologia e neurologia. Il vantaggio dell'apparecchio appena giunto al Mazzini è quello di acquisire immagini in tempo minore rispetto al tipo analogico e con una più bassa dose di radiazioni somministrate al paziente. È un tassello importante il commento del direttore generale dell'asla Maurizio Di Giosia per quanto riguarda il rinnovo delle apparecchiature ad alto contenuto tecnologico dell'azienda sanitaria Teramama. Con la PET si completa così il percorso diagnostico terapeutico del paziente oncologico che non ha più bisogno di rivolgersi fuori dell'asla di Teramo. La PET sarà sistemata all'ospedale Mazzini in un'area ad hoc della medicina nucleare dove saranno eseguiti gli esami e dove è stata ricavata anche una sala d'attesa. Ora tutti gli elementi dell'apparecchio dovranno essere assemblati, lo strumento dovrà essere poi calibrato e collaudato. Successivamente inizierà un periodo di formazione del personale sanitario. Si stima che la PET entrerà in funzione a Teramo nel mese di maggio.